Ancora giornate molto fredde? La cosa più appagante dopo una lunga giornata d'inverno è sedersi a tavola e mangiare un piatto caldo, soprattutto nutriente e gustoso. Un abbinamento che mi piace tantissimo è quello della verza con le patate. E in questo piatto cremosissimo, secondo me, questi due ingredienti riescono davvero a dare il meglio. In questa ricetta insaporisco la verza con un leggero soffritto di odori. Poi la cuocio insieme alle patate aggiungendo del brodo. E infine frullo tutto per ottenere una sorta di vellutata, che davvero coccola il palato. Quello che serve sono 500 g di verza, 400 g di patate, mezza cipolla, una carota, una costa di sedano, del brodo vegetale e poi del pane per fare i crostini. Partiamo dagli odori, quindi puliamo e affettiamo la cipolla, facciamo la stessa cosa con la carota che tagliamo a pezzetti e con il sedano. Scaldiamo un po' di olio in una pentola e lasciamo rosolare questi tre ingredienti per qualche minuto. Nel frattempo possiamo pelare e tagliare a tocchetti anche le patate. Le aggiungiamo al soffritto e continuiamo ancora un paio di minuti. Per quanto riguarda la verza, va lavata, asciugata e poi tagliata a striscioline. Io elimino la nervatura centrale perché è troppo dura, non la buttate però perché è ottima per fare il brodo. Aggiungiamo a questo punto anche la verza, mescoliamo giusto un minuto per farla insaporire e poi per non bruciare nulla aggiungiamo subito il brodo caldo. Se non lo avete potrebbe andare bene anche l'acqua. Non mettiamo troppo liquido, deve quasi coprire le verdure, giusto a filo, per permettere una cottura agevole. Aggiustiamo di sale e pepe nero. Mettiamo il coperchio e portiamo a cottura, ci vorrà all'incirca mezz'ora. Adesso possiamo spegnere, ci allontaniamo dai fornelli. Conviene togliere un po' di brodo se ce n'è troppo. Lo mettiamo da parte, eventualmente se serve possiamo sempre aggiungerlo nuovamente. Quindi lo preleviamo con un mestolo e adesso possiamo ultimare la preparazione frullando tutto. Ecco pronta la nostra crema di verza e patate. Ovviamente va servita molto calda. Con che cosa? Con dei crostini. Li prepariamo tagliuzzando del pane che mettiamo all'interno di una teglia. Aggiungiamo pepe nero, olio di oliva ed erbe aromatiche a piacere. Io ho scelto rosmarino secco tritato finemente e salvia. Mettiamo in forno per qualche minuto fino a quando i nostri crostini appaiono, molto croccanti e ben dorati. Li aggiungiamo al piatto. Completiamo con un altro filo d'olio a crudo e ancora un tocco di pepe nero per un piatto davvero saporito, profumato e irresistibile. E voi come vi coccolate quando fa freddo? Scrivetelo nei commenti. Io vi aspetto sui nostri siti cibodoc.it e vivomangiando.it con tante altre ricette.